Buonasera, professor Iannini. Buonasera. Allora, l'argomento che lei ci propone stasera per la rubrica è una questione di ormoni ed intorni. Sono i cambiamenti, grandi cambiamenti, e lei li chiama rivoluzioni avvenute in campo della sessualità. Sì, sono quattro rivoluzioni. Quattro rivoluzioni sessuali, perché una volta si facevano con i furconi, una volta si facevano con la polvere da sparo, adesso è la tecnologia, è l'innovazione che ci aiuta a cambiare i nostri costumi sessuali. Ed è un'innovazione particolare, è un'innovazione farmaceutica. Si può dire che la rivoluzione oggi si fa in farmacia, e questo ancora una volta ci porta a ribadire quanto la ricerca sia assolutamente fondamentale e ovviamente la necessità di investimenti. Allora, vediamo la prima di queste rivoluzioni. La prima rivoluzione sessuale è esattamente la mia età. Nel 1960 un endocrinologo, Pincus, inventa la pillola anticoncezionale e con essa la liberazione della donna dalla preoccupazione, dal problema di avere delle gravidanze indesiderate, quindi il controllo delle gravidanze. È una rivoluzione che cambia talmente tanto i rapporti tra i generi che la chiamiamo la rivoluzione sessuale per eccellenza. Ma non sarà l'ultima. Non sarà l'ultima, di fatti ce n'è un'altra importante che è venuta poco tempo dopo e che riguarda il maschio. Esattamente, ancora una volta è una pillola, ma in questo caso è una pillola blu, è il sildenafil, questa molecola che è stata inventata come cardioprotettore, ma che si scopre essere la prima formidabile terapia della disfunzione erettile e che cambia in questo caso completamente il modo con cui le coppie si approcciano, perché questo retaggio antico della perdita dell'erezione, un fantasma che è un po' sempre presente nel cervello di ogni uomo, viene in qualche modo, per così dire, esorcizzato e i maschi cominciano a essere più sicuri di se stessi e quindi anche più tolleranti, più capaci di attenzione nei confronti del femminile. Poi c'è una terza rivoluzione che in realtà è un po' più difficile da interpretare. Beh, in realtà l'abbiamo sotto gli occhi, perché è la rivoluzione, quella che io chiamo la Vax Revolution, la rivoluzione del vaccino contro il Covid. Che cosa è successo? È successo che durante la pandemia abbiamo, come dire, cambiato i nostri rapporti sessuali, emotivi, sentimentali. La stessa coppia, in qualche maniera, si è alterata proprio grazie a questo enorme esperimento sociale che è stata la pandemia, ma ora c'è il vaccino. E la rivoluzione della Vax Revolution non è altro che la rivoluzione degli abbracci, della contiguità, dello stare vicini, che sono cose estremamente importanti per noi esseri umani. Ancora una volta, metaforicamente, in farmacia troviamo un prodotto della ricerca che ci permette di cambiare i nostri costumi. Se prima eravamo costretti alla distanza, e ancora un po' lo siamo ovviamente, finché non avremo completamente debellato il virus, mano a mano che i vaccini e le soluzioni tecniche ci aiuteranno, ritorneremo ad essere fisicamente vicini. La rivoluzione degli abbracci. Il vaccino liberatore. Il vaccino liberatore, esattamente. E poi c'è una quarta rivoluzione che ancora non è arrivata, ma lei ritiene sia prossima. Sì, e anche questa è una conseguenza dell'innovazione e della ricerca, perché la tecnologia della vaccinazione RNA è anche una tecnologia che potrebbe, verosimilmente, in tempi non lontanissimi, essere utilizzata per tante cure, penso per esempio tu, uri, l'astrosi multiple, eccetera, ma anche per il vaccino dell'HIV. Questo spettro che si è aggirato in tutta la nostra generazione, per così dire, e che potrebbe trovare finalmente una risposta tecnologica attraverso appunto questa tecnica, producendo questo vaccino per l'HIV che, questa è la profezia, cambierà i nostri rapporti sessuali in una maniera veramente rivoluzionaria. Come va oggi l'HIV? Ma un'altra delle conseguenze della pandemia del Covid nelle regioni dove è stato rispettato il distanziamento sociale, chiaramente si è assistito a una riduzione delle malattie sessualmente trasmissibili, in quelle dove non c'è stato, invece sono rimasti più o meno agli stessi livelli, ma attenzione perché, mano a mano che ci riavviciniamo, non dimentichiamoci, una volta tolta la mascherina, non dimentichiamoci di continuare a utilizzare il profilattico, perché questa è l'unica difesa che abbiamo nei confronti delle malattie sessualmente trasmissibili finché non avremo, appunto, il vaccino. Ecco, perché non dimentichiamo che anche l'HIV è un virus. E non dorme. Abbiamo imparato quante cose sanno fare questi virus, come riescono a infilarsi, quindi anche lì occorre la mascherina, non bisogna dimenticare. Grazie, professore. Grazie.